E ora ringrazio anche i tanti ospiti che abbiamo con noi, Speroni, Borghezio, i consiglieri regionali del Piemonte, il presidente della provincia di Cuneo e tutti quelli che sono venuti. E chiudo con due battute. Una ringrazio la Stampa e la Repubblica che, avendo ricevuto dalla Segreteria Nazionale il percorso e il luogo della manifestazione, hanno indicato il posto e il percorso sbagliati nei loro comunicati dai siti. Ringrazio, visto che Giorgetti ha fatto pubblicità e Corriere, io la faccio alla Stampa e alla Repubblica. La Stampa ha fatto un referendum online se si era a favore o meno dell'abolizione della Bossi Fini. Visto che la stragrande maggioranza erano contro l'abolizione della Bossi Fini, è sparito il referendum dal sito. E per chiudere, prima scherzando con Maroni, ho detto Sardegnoli rispetto ai sardi, ovviamente sono già tutte le agenzie che escono. Ma io non li chiamo Sardegnoli perché se gli uomini della Sardegna sono sardi, le donne non le volete mica chiamare sarde come dei pesci, e allora le chiamo Sardegnoli. Grazie a tutti, un abbraccio a Torino, al Piemonte e a tutti quelli che sono venuti con noi. Grazie. Grazie.